La costruzione della squadra sono state settimane belle intense, però l'hai consegnata al mister in pochissimo tempo. Questo credo sia un vanto, considerando che sono arrivati tantissimi giovani e tanti giocatori che la categoria comunque la conosco. Sì, abbiamo fatto il vantaggio perché avevamo le stesse idee, il stesso modo di pensare e allora ci siamo organizzati bene. Dicevo tanti giovani, forse è la medicina giusta, la filosofia giusta per affrontare un campionato, la C la conosci perfettamente. La società non voleva invecchiare la squadra, voleva giocare con dei giovani e abbiamo cercato di trovare il miglior giovani possibile e nello stesso tempo anche di lanciare qualche giovane. L'acquisto più difficile qual è stato e visto che il mercato terminerà il 2 settembre dobbiamo aspettarci qualche altro movimento in entrata eventualmente? Finché il mercato è aperto bisogna sempre aspettarci qualcosa. L'acquisto più difficile sicuramente è stato franco perché la società di appartenenza non lo voleva cedere e lì abbiamo sofferto un po'.